Salve amici sportivi di Zero Gameplay, io sono Zero e oggi siamo qui quindi su PES 2016 pronti a proseguire dall'ultima partita che avevamo perso mirabolantemente, giustamente perché avevamo fatto un bel 6-0, di conseguenza siamo pronti a riscattarci in questa partita, non lo so ma lo scopriremo. Inoltre ho modificato di molto la mia squadra, infatti ho aggiunto un po' di giocatori molto più bravi dei precedenti e in più finalmente mi sono deciso a cambiare un po' il modulo, nonostante sia sempre 4-3-2-1 più o meno, mi pare fosse quello. Adesso ho fatto avanzare un po' di più i centrocampisti, i difensori e gli attaccanti, così forse, oh grazie, così forse finalmente avremo qualche opportunità di segnare o comunque qualche opportunità di poter finalmente vincere. E chi sarà il fortunato a dover combattere contro di noi? Beh fortunato perché ovviamente ci batterà quindi c'è poco da fare, vediamo un po'. Dunque ragazzi vi avviso in anticipo già una piccola cosa che probabilmente sarà molto importante, hanno 1200 e spari di valutazione, oh cazzo, beh perderemo, questa volta lo dico proprio sicuro, sicuro di me stesso e dei miei mezzi che perderemo questa partita ma lo faremo con una grande soddisfazione, soprattutto cercando di non, diciamo, metterci troppo a figura di merda perché altrimenti sarebbe una cosa leggermente, ma leggermente vergognosa. Quindi tentiamo di non farci nessun autogolo, soprattutto quella è la prima e cosa principale, diciamo, che non dobbiamo fare e speriamo che il caricamento ce la faccia perché probabilmente sto mettendo a caricare molte cose e di conseguenza diciamo che oggi la linea va un po' così, va un po' lenta. Quindi taglierò molte parti e cercherò di non far laggare troppo la partita. Ed eccoci qui nello stadio dello Juventus sti cazzi, dai. Ehm, sì, sono troppo ansioso purtroppo perché questa partita sarà una delle migliori partite. No cazzo, loro già ce l'hanno segnato allora. Dai, dai, dai. Sono pronto? Ehi! Ammazzo, che coccinella per sbaglio. Venga qui, eccola là. No ragazzi, qui perdiamo, qui perdiamo, qui perdiamo. Prendi la bravo giovane. Ok, dietro, dietro. Ma con quale agilità ha fatto quella cosa? Il mio personaggio non si muoviva. Dio santissimo perderemo. Passa la palla. Ma bravo, non così, non così va bene. Adesso si va bene. Passa in avanti. Ragazzi ma non corrono. Vi giuro non corrono. Cosa devo fare per farli correre a questi? Gli devo mettere una bistecca davanti agli occhi come facevano ai tempi antichi. E che cazzo? No, prendila, prendila. Prendila al costo di fargli un fallo, prendila. Bravo. Sì ma sono troppo lenti, non capisco sul serio quello che... Guarda là che merda. Prendila, prendila Roberto. Bravo Roberto. Passa in avanti Roberto. Sì così Roberto. Avanti, avanti che ce la fai Roberto. Dietro Roberto. Grande. Non così Roberto però. Che cazzo. Prendila. Bravo. Uh. No. Ho sbagliato qualcosì. Dite che per sbaglio gli ho offerto la palla? Eh che cazzo. Arbitro. Portiere. E niente. Sono depresso ragazzi. Sono proprio depresso. Che merda di squadra c'ho io. Ah. Dai. Dannazione. Prendi quella palla. Oh che cazzo ha fatto? Ma perché? Non gli ho detto tira. Dannato. Gli sarà avvenuta una crisi mentale? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Prendila. No Roberto non di là. Va bene uguale dai. No 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 no. No 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 no. Prendila. Ma sei una merda. Portiere. Devi andare a prendere i piccioni. Non le palle. Oh. Guarda mi ha ucciso. Arbitro avanti. Rosso. Che palle. Allora prendiamo. No. Stia fermo. Stia fermo. Ok. Di là. Prendila però eh. Ok. Va bene. Eh. Capirai. Ragazzi io la prossima partita metto valutazione 1 eh. Vi avviso. Prossima partita proprio sti cazzi che faccio scegliere al computer. Palla in profondità. Ok. Dai dai dai. Sì. No ma che. Ragazzi vi giuro non fanno quello che gli dico. È una spina nel culo. Remy venga qui. Bravo. Bravo Remy. Ho fatto pure la rima. Capirai. Giù. Perché di là. Dannato. Ok. Va bene uguale dai. Va bene uguale. No. E ti cazzo. Tira sta palla. Non lì. Oh oh. Ah. La vita. Mi ha distrutto il piede. Non è fallo quello. Ma dai. Salve. Se faccio tipo. Che cazzo. Portiere. Lei è un minchiune. Se lo faccio dire. So che lascio dei leggeri buchi nella difesa. Ma lei è un coglione. Mo facciamo un bel tiro del col cazzo. Facciamo direttamente un bel passaggio ad effetto. Lì giù. Dai che ce la si fa. Dai che ce la si fa. Ma non. Ma ragazzi avete visto dove è la passata. No adesso vi dico su serio. Avete visto dove minchia è la passata quella palla. Io non. Io veramente ragazzi. Sono senza parole. Senza parole. Avete visto il passaggio dove l'ho fatto. Bene. Adesso avete un'idea chiara di come cazzo è possibile che la mia squadra faccia così pena. Hanno dei riflessi da una mandibola morta. Che ne so. Non so neanche che cos'è. Ma va bene. Sì. Bel passaggio. Complimenti no. Devo dire che quel passaggio angolato era davvero strepitoso. Guarda. Questi hanno il ghiaccio sotto i piedi. Tira. E che cazzo. Pure questo no. Non di molto. Non di molto. Non di molto. Ha colpito uno spettatore e l'ha ucciso probabilmente. Vabbè ragazzi il primo tempo è andato a puttane come si sa ovviamente. E per la prima volta in tutta la storia di questa grandissima serie. Siamo 6 a 0 nel suo primo tempo. Non male. Ed eccoci qui al secondo tempo che pare essere ovviamente privo di sorprese perché perderemo. Ok cazzo. Eh sì salve salve. Comunque sa che i miei giocatori sono un po' delle merde, delle schiappe per cui non faccio il 7 a 0. Per favore. No. No. Aspetta. Ok. Portiere. Portiere sei un coglione. Portiere. Lei è un malato. Portiere. Porca puttana. E sono questi ragazzi i momenti in cui capisco il perché perdo. A Cristiano Ronaldo in squadra. Ah ok la follia ha raggiunto dei limiti ormai eccellsi. Ma dettagli soltanto in questa partita ho perso così tanto proprio per quel motivo probabilmente. E anche perché i miei sono degli imbecilli. Cioè sembrano dei birilli che giocano sul campo. Devo pensare io a tutto. Guardalo. Stoppa la palla prima di passare. Via di lì. Bravo. No ecco. Non dovevi stopparla in questo modo e non dovevi passarla di là dannato. Mi ha rotto le cosce. Dannati. Non lo faccia. Portiere. Cristiano Ronaldo ha rotto un po' i coglioni però sa com'è. Eh che cazzo. Senta. Mi dia la palla. Va faccio io. No no. Portiere bravissimo. Bravissimo. Guarda. Adesso passala a quell'uomo lì davanti. Non a quello ma va bene. Uguale. Non preoccuparti. Portiere. Vai. Portiere. Ci ha fottuto alla grande. Portiere. Guardalo. Guardalo che bastardo. Sei un grande tizio. Sei un grande però. Però non dovevi farlo perché altrimenti io vado a fare l'autogol. Eh. E basta. Ok. Ragazzi 10 a 0 forse ci arriveremo. Dai. Dai così. Cioè sto tifando per lui ma non ha senso. Venga qui. E dammi la palla. Avanti. Così. Nella palla. Che cazzo fai? Porti. C'è una palla solitaria lì per caso. Non c'è qualcuno che la. Ah ok. No ho visto una palla solitaria e ho detto. Oh mio Dio. No. C'ha. Con quale fisica ha fatto entrare quel pallone nella porta. Vabbè ragazzi a questo punto io davvero. Vado. Io fuggo. Fuggo. Aiuto. Mi vuole picchiare. Dannato. Oh. Grandioso. 10 a 0 ragazzi ce l'abbiamo fatta. E purtroppo questa sconfitta non è stata propriamente una sconfitta. Una sconfitta diciamo invergognosa ecco perché è stata una sconfitta proprio di quelle pesanti. Guardalo guardalo. Troppo forte. Mamma mia. C'è il portiere. C'è il portiere. Non lo faccio mai più. Guarda il portiere para anche fuori dalla porta. Riflessi. Vai portiere. Fidati. Che merda. 11 a 0. Cristian. Cristo il Cristian. Dannato. Oh. Mi ha picchiato. Arbitro mi ha dato un cazzotto in faccia. Ragazzi ci prova. Ci prova. Ci prova porca brutta. Tira quella merda di palla nella porta di Gertrude. Vai portiere. Uh. Testata imparabile del portiere. E va così a... Guardalo Cristiano Ronaldo che si smanetta. Va bene ragazzi. Posizionamento automatico. Perché giustamente abbiamo perso 11. Ragazzi. Questa è la partita più vergognosa che io abbia mai fatto nella storia umana. Vabbè se il video comunque vi è piaciuto ovviamente guardate lì il punteggio 4,5. Se il video vi è piaciuto ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Noi ci vediamo così in un prossimo episodio di PES sperando che questa agonia prima o poi finisca. Un saluto a tutti e al prossimo video. Bye bye. Piccolo cambio di programma. Ho notato questo. Risultati di stagione. La stagione è terminata. Consulta la tua posizione finale in classifica. Saremo gli ultimi. Speriamo di sì. Divisione 12. Partite 10. Vinte e persa. Allora pareggiate 1. Sconfitte 9. Vittoria 0%. Mio Dio. Punti per la promozione. 3 punti attuali. 1. Sarai di nuovo in divisione 12 nella prossima stagione. Grazie al cazzo. Vabbè ragazzi alla prossima.